Riaprire il ponte sull'Agonia di Olevano nel giro di un anno. È questo l'obiettivo della provincia di Pavia che ha presentato il piano dei lavori. In piccolo viadotto, parallelo al ponte della ferrovia Mortara Alessandria, è chiuso dall'estate del 2015 per gravi problemi che ne rendono pericoloso l'attraversamento anche a piedi. La provincia ha prontato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori. La gara d'appalto si svolgerà tra gennaio e febbraio. Occorreranno poi nove mesi di cantiere, compatibilmente con quanto potrà offrire il mercato in termini di reperibilità delle materie prime. Il costo della ristrutturazione è stato preventivato in 900 mila euro. Demolire il ponte e ricostruirlo sarebbe costato di più. I tecnici avevano stimato una spesa di 1,2 milioni di euro. Si interverrà su entrambi i piloni in alveo, si ripristineranno le barriere laterali, verrà irrigidita la soletta e si scarnificherà la struttura per riempirla con cemento alleggerito. Il ponte avrà una portata di 26 tonnellate, potrà sostenere il traffico leggero e i mezzi agricoli, mentre sarà vietato i mezzi pesanti. Il nuovo progetto è un aggiornamento rispetto a quello ipotizzato un anno fa. C'è servito un ulteriore sforzo della provincia, la provincia a quale devo ringraziare ovviamente sia il presidente che la vicepresidente Daniela Bio, che sono sempre stati vicini a quest'opera e a Olevano. E quindi grazie a loro siamo riusciti, avendo riperito anche le risorse aggiuntive. C'è la progettazione ormai finita, ultimate, quindi nell'anno 2022 è l'anno buono per la sua ultimazione. Quindi potremo finalmente riaprire il nostro ponte e quindi questa è un'ottima notizia per il nostro territorio e anche per i comuni vicini come Velezio Zeme, ai quali sono interessati. Oltre ricordo la caserma dei Carabinieri che insiste nel territorio di Zeme. Quindi grazie a questo potrà essere un valore aggiunto rispetto alla sicurezza del nostro territorio. A essere maggiormente danneggiati dalla chiusura del ponte in questi oltre cinque anni sono stati i Carabinieri. Olevano infatti dipende dalla stazione di Zeme e le pattuglie devono fare un lungo giro da Castello d'Agonia per raggiungere il paese. Gli altri utenti di questa strada di collegamento, la provinciale 14, sono gli agricoltori di Olevano, Zeme e Velezio Lomellina. I lavori saranno finanziati con un contributo regionale da 450 mila euro deliberato già un anno fa. Il rimanente lo metterà la provincia attraverso i fondi arrivati dal governo tramite il decreto ponti.